Stiamo per trasmettere una trasmissione di una intervista a un noto personaggio della scena internazionale e nazionale, ovviamente. È un noto personaggio che proprio oggi sta per compiere... vuole dirci lei? Prego, ci dica. Diciamo compiuto. Quanti anni? Quattro o no? Mi pare che ha fatto 49 anni, una bella fetta di tempo, eh? Guardate questa pagina del panorama secolo. Sappiamo che lei è uno degli artisti più quotati a livello internazionale per quello che riguarda la pittura. Pittura sempre ma sempre informale. Grazie.